non fa non fa foto più adesso adesso finisce questa andiamo basta foto ragazzi discoteca e c'erano un sacco di ragazzi che mi approcciavano ma stavi cucinando bro gli ho detto che il focus è minecraft stai cucinato come le fai tu le foto mi conosci troppo bene davvero si attenta pure ma che che è questo willy che kit è che kit è questo qualche cinesino cinesino ok siamo presi bene ok ok che casacca questo è il quarto giorno di questo vlog la capra numero 10 è bassissimo basta che mi stavi prendendo di lì le mutande vuoi le mutande di Zabo vuoi le mutande vuoi le mutande 1v1 finito vi lascio qualche clip figa ops ho sbagliato scusate voglio due bodyguard lì che è in effetti per i cosi voglio due bodyguard sulla play come un bambino che sta morendo di caldo però vuole stare guardatelo guardatelo 5x6 eh 5x6 6x7 però la capra sa fare qualsiasi cosa quindi l'avete vista anche qua aspetta aspetta bro com'è 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 come'è com'è come'è com'è com'è comekè Lan yessere ugur ă eee Sんな A te eh Sa ve Sono i sapori del gol se non è caso Sono i sapori del gol se non è caso 100 euro di stufa in piscina Bomba è un cazzo di casino Si è fatto la doccia ragazzi ok Si è cambiato ok Bonnex nocchie E' per questo che chiamo a 30 Ma vai a fa culo 40 40 Ma dai Nocchie Ma si sa Drake è dal 2009 che canta ha fatto film con tutti Ma fa tecno per i pizza bro che fico Ha fatto back to back Ha fatto back to back Ok Chi era scritto la mia stanza Chiudi Drake in una stanza e chiudi Kedek in una stanza è troppo un album un mese Vediamo chi spaga di più Vediamo chi spaga di più Non lo so potrebbe vincere Kedek Subito che vincere lui I numeri parlano bro i numeri parlano bro I numeri parlano bro I numeri parlano brettino I numeri parlano brettino Fa musica per co- Anche ridicamente più forte Ma Drake è il go-to bro Qui si parla di go-to Qui si parla di go-to Non come Ronaldo che dicono che Ronaldo è il go-to perché fa più gol No Messi è il cazzo di go-to Guardate Oh one dance Guardate quanto è scrittoria Guardate quanto è scrittoria È il pezzo più ascoltato di Drake Guardate quanto è scritto Non l'ho appena presa aspetta Aspetta Non sciogli Mi hai presa No no mi dai la mano Bravo male per quella F No mi dai la mano Adesso i clipi del mio vlog sono il bodyguard del mio Non fa foto più adesso Adesso finisce questa e andiamo Gli ultimi saluti ragazzi Dai valuta il suo account Dai bro Valutazione account in diretta Bro Maimedgar no Ciao ragazzi No basta Basta foto ragazzi Basta No Era fact bro ragazzi a mezzanotte è il compleanno compleanno divento adulto quanti anni faccio abbastanza per i minorenni non troppo per le vecchie cazzo alexi la fama così è già finito per oggi sai quelli che dicono le bugie ho preso la prima cosa dodici anni in venezuela non me ne fotte un cazzo di tua mamma è quanto è vera io vengo dal fuoco io non vengo dall'argilla basta colombiano come va mia la città è l'imprigione che chi di l'arriba ma se mi voglio rimanere un lima ma che più la pata è mi sono dite le palle italiano metto la camicia sono una botta grossa di questo tipo di parte di me è è è è è Non faccio scena ma scena ancora 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 E' veramente veri uomini Proviamo a entrare nel Maradona adesso Le cose sono due o proviamo ad entrare o ci uccidono Cioè Ok posso andiamo a dormire abbiamo capito Oh ma il dj7 Non è un dj7 qua No raga se entriamo nel Maradona Io so come si fa